che ormai si va verso la permanenza di Mvlovic, che si va a inserire a questo punto tra i top top, cioè Osimel e Lautaro si sono stati confermati da super top e poi ha segnato un po' tutti praticamente, diciamo di quelli grossi, l'unico forse è Leao che ha preso il palo, che ha fatto una giocata che mi fa impazzire quando se la sposta con la suola e poi ha tirato in porta, però comunque penso che anche da parte di Leao si sono arrivati segnali positivi. Tu come hai visto un po' il Milan in generale, Leao, questo attacco, anche Girona, quelli che ha segnato? Sì, ho visto un bel Milan davanti, Guli, molto propositivo, bella proposta di gioco eccetera, dietro un po' ballerino, soprattutto secondo me mancava un po' di filtro in mezzo, ho visto molto bene rendersi, io sincero mi è piaciuto veramente molto, Loftus ha fatto una bella scambata sulla destra, ne ha saltati un paio, però ancora un po' in ombra secondo me, e dietro Tomori sembra il cugino di quello dello scudetto, cioè è partito, non mi ha convinto minimamente. È in modalità anno scorso, è in modalità anno scorso, bravo, Teo qualche sgruppata, è il solito giallo inutile per protest che se non lo prende non è Teo, che purtroppo è prendere o lasciare così, Teo è questo e sarà sempre questo, le ha lo solito a intermittenza, pochi palloni arrivati a Ciucu, bene Pulisic, molto bene, benissimo Giroud secondo me, io dalle amichevoli non mi aspettavo questo Giroud già così in forma, sponde in aria, ha provato addirittura un doppio passo e stava per andare al tiro, ho visto veramente un bel Giroud, e Mignan è la solita certezza, cioè veramente Mignan è un mostro, quella parata che fa spalla, faccia, chiamala come vuoi, sembra non si capisce bene se la prende qua, qua, insomma veramente bella. Vedo tante domande giustamente su Ciucu Eze, ad esempio se ignoranza chiedeci se si aspetta vero. Allora, in questo momento vedo che sia comunque definita un po' una gerarchia iniziale, non so come la pensi tuale, però c'è in questo momento Pulisic titolare e Ciucu Eze riserva, c'è un Milan molto definito in questo momento, c'è anche a centrocampo con l'unicente a difesa, le due mezzali, Calabria a destra, i due centrali sono Tomori e Ciao, quindi in questo momento il Milan è quello che si è visto col Bologna, cioè se ci fosse il derby, la Champions, c'è la partita, il Milan è quello, cioè mi sembra che in questo momento sia così, ma penso che... No, no, mi è piaciuto Renders, ragazzi, non ho detto stupito, piaciuto. Ti ha stupito Renders? Ha stupito a me no perché l'avevo visto. Esatto, stupito no perché l'avevo visto e sapevo che ha queste qualità, però già che si sia ambientato così, quell'assist che fa, non molla la palla, cioè sembrava fuori a tutti. Lui va, ci crede e la mette pure precisa. E in generale comunque si fa dare la palla destro-sinistro, testa alta, cioè è un bel giocatore che mi sembra già molto dentro, mentre Loftus l'ho visto meno dentro i meccanismi, ecco, la differenza. Pulisic dentro anche lui, viene molto rispetto a Leao, Leao solito si mangia la falla a riga, cioè piedi sulla riga e Pioli lo vorrà sempre così secondo me, mentre Pulisic viene più dentro al campo, cioè non è un Milan speculare che fa le stesse cose a destra e a sinistra, proprio gioca in modo diverso a destra e a sinistra. Sì, forse sarebbe più speculare se ci fosse Ciukwese da una parte o dall'altra. Mi sembra una situazione un po' di quelle magari a volte già viste, cioè questo Ciukwese e Pulisic, cioè dettata magari anche più dai tempi di arrivo, cioè che Pulisic arriva prima, ha tempo di inserirsi, il Milan trova questo assetto qua e quindi adesso ha fatto anche bene alla prima e continua su questo 4-3-3, poi secondo me alla lunga ci potranno essere molti cambiamenti, cioè magari un Pulisic trequartista in un 4-2-3-1, vediamo magari anche a fine mercato sulla questione attacco, la questione Krunic e comunque sempre il Fenerbahce. Poi diciamo in questo momento è così, poi io non ricordo una stagione in cui si parte con un esempio in 4-3-3 con degli interventi e si finisce allo stesso modo, anche lo stesso Milan, lo stesso Pioli è uno che cambia spesso nel corso della stagione, per lo scorso ha spostato ben assetto e trequartista, due anni prima ha messo Tonali, mezzala di inserimento che si buttava dentro continuamente, anche tutte le varie generarchie, ultimamente Krunic era diventato intoccabile fino a due anni fa, non giocava quasi mai, quindi siccome è una stagione lunga, se la situazione rimane questa, io mi aspetto questo 4-3-3 in Champions, mentre magari ad esempio Ciuquez che in questo momento è il super sub del Milan, può avere spazio in campionato, quindi o al posto di Pulisic a destra che è il suo ruolo, oppure magari Pulisic se dovesse riposare una volta Leao va Pulisic a sinistra con Ciuquez a destra, poi se ad esempio ieri fosse, magari non segnava Pulisic, entrava e segnava Ciuquezze, già si parlava di un'altra cosa, quindi molto dipenderà anche dal campo, chiaramente se Pulisic segna un gol così, fa il lancio da qui nasce l'1-0, poi diventa difficile da togliere, onestamente, però Ciuquez come caratteristiche può essere anche buono a partire, sicuramente adesso il prezzo sarà diverso, Ciuquez è andato ad avere anche la Coppa d'Africa, ricordiamo, quindi comunque io non vedo neanche un problema di abbondanza, sono sempre contrario a chi dice, ah ma allora dove lo metti questo, dove lo metti quell'altro, ormai si giocano due miliardi di partite, ci sarà pure la Coppa d'Africa, meglio avere più giocatori, che, tra l'altro Milan non ha neanche questa rosa così lunga, cioè se vediamo magari anche, c'è anche Salviceteo che non c'è ancora, cioè non ha due, ma l'abbia per me titolare non è una sorpresa, il capitano del Milan, sono abbastanza d'accordo con Rino 7 che dice, ti ha utro, poi palle persi in uscita, vero, tu mori disattento, vero, manca qualcosa dietro, anche secondo me, però questo ormai, cioè ha scelto questo, questi e Caluru comunque quando è entrato stava per regalargli un gol, incredibile, cioè quel passaggio che sbaglia in aria, una roba, cioè, imbarazzante veramente, entrato male. Sì, cioè, lui aveva anche Tomori appunto, abbiamo detto, la difesa in generale, cioè mi sembra un mila meglio dal centrocampo in su, giocatore che invece vedo comunque con margini rispetto alla prima in cui l'ha segnato, e Teo, cioè ha visto un paio di situazioni di difesa in generale, c'è Comun Di Marco con la concorrenza di Carlos Augusto, c'è molto alto di Lorenzo a Napoli, però diciamo in generale comunque Teo, cioè Teo rimane, rimane diciamo la stessa certezza, il fatto anche che non abbia segnato può poi aiutare magari a prendere la cifra non esorbitante all'asta, perché per il resto, per il resto, il giro sale, forse rischia di salire anche troppo, a mio modo di vedere, nel senso che non ci sarà sempre una partita a settimana, poi sarà un po' gestito, Pulis inevitabilmente sale, secondo me Reinders rimane fattibile, è forte, ma ha fatto comunque su un assist per ora, cioè non si è ancora visto tutto, cioè secondo me quello che ha sorpreso è il fatto che ha giocato, cioè che giochi da quando è arrivato al Milan, è così offensivo, perché comunque lui è uno che non è che fosse un centrocampista offensivo, però il Milan a volte fa quasi il trequartista praticamente, cioè la palla che va a prendere per l'assist la va a colpire a due centimetri della linea di fondocampo, cioè per cui era particolarmente... che ci si aspettava, ma un po' tutte le big alla fine, adesso magari vediamo un po' anche in base alle domande, situazione squadra per squadra, però comunque Inter, Milan, Napoli con Di Lorenzo, Politano, la Juve, di cui abbiamo parlato tanto, con Chiesa, Vlovic, Rabiot, per le big alla fine un po' tutti i prezzi sono praticamente saliti, cioè oltre ai top comunque anche altri, penso a Sarnautic nell'Inter, adesso vedo un po' di domande sui vari tipi di attacco, c'è ad esempio un Simeone Giroux, Simeone Giroux, Osimen, Pedro Mota, Beltran, Fantaotto comunque se riesci a prenderti, sì, Giroux con, ad esempio con Osimen, allora lì è un conto penso sia difficile, ecco, chi fa l'asta adesso, riuscire a prendere ad esempio Osimen Giroux sì, un bel premio, un bella presa secondo me poi anche la Fiorentina, cioè le squadre che hanno fatto bene ovviamente avranno un plus a livello di prezzi, delle big, ecco la Lazio sicuramente non esce bene dal punto di vista diciamo del Fanta e dei salisceni dell'asta inevitabilmente, cioè rimangono tra virgolette ai prezzi che avevano, ecco, non ci sono stati dei, dell'exploit, dell'exploit particolari perché poi invece ho notato Ale che c'è molte provinciali, prima parlavano dell'Udinese contro la Juve, hanno avuto forse anche la sfortuna di, cioè di beccarsi la Juve, il Napoli, l'Inter e il Milan, cioè comunque buone squadre come Bologna, Monza che magari non hanno segnato non hanno fatto granché, però anche perché avevano un avversario di quel tipo lì e nel primo giornale ci sta perché ovviamente non potendoci essere sconti diretti sai, chi non ho visto benissimo, Guri, che mi aspettavo di più, il Torino io l'ho vista, sai che, cioè, dopo 20 minuti ho detto, per me sta partita finisce 0-0 cioè la poteva decidere un rigore, una classica caramò quando è andato via un paio di volte però l'ho visto un po' spento, proprio anche nella proposta di gioco, così cioè, bravo Sanabria a tenere sulle palle, però nulla di che come proposta di gioco, eccetera, eccetera mi ha un po' deluso, dai, sincero, tutte le altre, bene o male, hanno fatto quello che mi aspettavo come dici tu, qualche provinciale con le bighe, eccetera la Lazio, come dicevamo, che ne abbiamo parlato, non mi ha... Filippo Anderson l'ha tenuto dentro veramente poco e non ha brillato e il centrocampo non l'ho visto benissimo, a parte Luisa Alberto con l'assist dietro, difesa, solita ballerina, Patrick Casale, io pensavo giocasse Casale, sincero poi ha messo Patrick, per il resto... Sì, anche a livello di gerarchia non ci sono state cose sconvolgenti Bravo, Musso che si è preso la porta, ma l'aveva detto Gasperini in conferenza salvo poi, cioè, nelle parole, l'ha un po' distrutto, diciamo se quelle sono due parate importanti, cioè ha un po' sminuito quello che ha fatto poi durante la partita, quindi non sono parole che dice, ok, mi fido giocherà Musso da qua alla fine, cioè non è che l'ha elogiato, anzi, tutt'altro Sì, ci sono nell'Inter i... c'è due, tre ballottaggi grossi che sconvolgono un po' avanti per tutta la stagione, c'è Edun Frizz quadrado, Michi Teranfratesi davanti a Arnautovic Turam, dove sconvolgono c'è neanche un titolare e anzi, se proprio dovesse esserci un titolare giocherebbe in Champions e non... magari riposerebbe in campionato cioè penso a Michi Teranfratesi, cioè io vedo magari più Michi Teran in Champions Fratesi in campionato, lo stesso anche per caratteristiche quadrado, scambio da campionato, Edun Frizz più solido, tra virgolette quindi magari più da Champions, lo stesso anche di Marco, Carlos Augusto a sinistra sono curioso per l'attacco, cioè onestamente Arnautovic, Turam in questo momento c'è leggermente avanti Turam, parte, perché comunque ha fatto anche titolare la prima, in un'ottica diciamo di partita in Champions però secondo me Arnautovic è più usato sicuro Cioè, tratto bene bene secondo me Arnautovic, l'ho visto proprio bello pimpante, giocate Sì, vediamo chiaramente come si va poi a completare, intanto sono sbloccati i messaggi quindi sono tornati, sono tornati, allora io stavo provando a cercare una cosa però non riesco più a ritrovare, i marcatori dell'anno scorso alla prima giornata l'avevo visto ieri ma non trovo più il link Ah ok, intanto Lautaro per Sam, Lautaro, D.A., Fendi, Cancellieri, Seidekong, attacco Fanta10 per me sei un po' leggerino, sincero se vuoi giocare con tre punte, se giochi con due ci può stare meglio Sanabria? Eh, o Chiesa, ho visto che anche prima in tanti lo chiedevamo magari eri sempre tu, però ho visto che era una domanda ricorrente bella io andrei con Chiesa, sincero, con la Juve senza coppe cioè se Chiesa sta bene per me a Guli, non so tu come lo vedi ma se hai Chiesa della prima le fa tutte cioè non vedo come possa No, no, certo, cioè se sta bene tutto cioè Chiesa titolare come giudicato è il mio attacco è uno dei giocatori tra l'altro anche saliti dopo l'ultima come giudicato è il mio attacco, Fanta8 Berardi, Arnatovic, Chiesa, Lukman non è preso il top cioè il top top diciamo però alla fine è un attacco veramente completissimo cioè forse anche troppo nel senso che bravo cioè se poi torna anche Berardi Arnatovic, Chiesa, Lukman devi tenerne fuori due perché non conviene fare un attacco di questo tipo cioè a quel punto ti vai a prendere Rosimeno, Lautaro perché adesso si puoi provare comunque a fare il 2x1 a prendere, a mettere insieme magari Giroud adesso che ha fatto il gol valorizzarlo il più possibile Arnatovic, Arnato, non lo so è anche difficile dipende anche poi dalle rose degli altri perché tu hai preso quasi tutti diciamo primo, secondi, slot, terzi più importanti tranne top top comunque attacco a 10 invece lui come andando a te vice reteghi Milik, Gongè e Colombo ma già qua 10 diverso sì qua e qui tu nei 3 e 3 riserve scaccia postare sì l'attacco alternativa quello dei poi dipende anche chi hai dietro magari il modificatore è in difesa forte è una domanda questa questa è bella Dianzola tra l'altro con la Coppa d'Africa anche ma allora io prendo D.A. per il fatto che che la Fiorentina prima c'è anche una domanda su Dodo è che la Fiorentina comunque è sempre questa che può avere un cambio improvviso perché perché italiano fa la sorpresa chiaramente D.A. fino all'ultimo vedere poi se resta tutti gli effetti comunque a questo punto ormai penso proprio di sì altro attacco D.Balas Kamakadi a Turam caso Thure fanta 10 ovviamente poi adesso tu me fanno partire quando riesci io appena riesci per il resto a me piace questo attacco Flash Alex Thure sfortunatissimo è infortunatissimo Guli no sfortunatissimo ah sì sfortunatissimo è infortunatissimo sta fuori tanto quindi c'è una lotta ancora prima che iniziate esatto quindi niente svincolare vediamo poi man mano però saranno tempi lunghi Guli quindi non lo so secondo me non vale la pena nemmeno tenerlo come ultimo slot proprio cioè zero a meno che non è un attacco lunghissimo che alcuni hanno addirittura otto attaccanti così ma se ne hai sei via di sicuro perché comunque se ne parla per il 2024 sì ho letto qualche articolo che dicevano prova poi per la Coppa d'Africa ma io vedo comunque difficile anche la Coppa d'Africa onestamente cioè non penso che cioè tu torni il 31 dicembre e dopo tre giorni vai a fare la Coppa d'Africa senza aver fatto i primi 4-5 mesi di campionato cioè se poi adesso andrà pure in Coppa d'Africa a livello di Fanta vorrebbe dire rivederlo a febbraio direttamente però sì sono prudente anch'io sarei sarei per prenderlo onestamente altri infortunati così al volo che che ci possono essere non mi sembra che ci siano casi clamorosi cioè né prima né posto la giornata si rimane in attesa di quei nomi lì tipo Deulofeu che che erano già infortunati di lungo corso o magari quelli che erano appena tornati quindi Pogba che comunque è stato è stato convocato non è entrato però Pogba a questo punto è 100% recuperato sì direi proprio di sì e avevano fatto cioè l'avevano detto ti ricordi Guri forse lo convocava l'avrebbe già convocato già alla prima eccetera eccetera è un segnale importante secondo me come ha detto Allegri in conferenza è una stagione che parte già diversamente dalla scorsa e lui l'ha visto diverso i segnali dal ginocchio eccetera eccetera secondo me presto lo inserirà per quei 20-30 minuti ecco eh Berardi l'abbiamo parlato prima è difficile in questo momento capire la mia è che se non dovesse andare alla Juve come diciamo ormai sembra se ci fidiamo delle parole di Carnevali che ha detto che non andrà più a quel punto cioè mi sembra difficile anche per la storia di Berardi e del Sassuolo onestamente cioè vedere un Berardi in tribuna per sei mesi cioè mi sembra mi sembra eccessivo per cui secondo me poi alla fine Berardi è integrato poi bisogna capire anche come c'è la questione in questo momento è molto tra il Sassuolo e Berardi magari con una promessa di andare via a gennaio alla prima occasione inutile poi era un po' meno grave ma era un po' così anche l'anno scorso poi alla fine aveva rinnovato quindi Kvara ragazzi è a posto tranquilli secondo me Kvara Leao e Dybala sono tre nomi Guli non so come la vedi tu che si possono sbloccare alla seconda se dovessi dirne cioè non mi stupirebbe se tutti e tre timbrassero ecco la Padula e la Padula ha sempre i tempi che avevano detto Padula è lungo sì allora ecco ho trovato finalmente vi leggo solo i marcatori della prima giornata dell'anno scorso così anzi facciamo ogni nome vediamo se poi alla fine si è confermato oppure no allora nel Milano ha segnato Rebici Doppietta Diaz Eteo qui c'era stato mi ricordo grandissimo fuoco di paglia Rebici che sembrava diciamo un fenomeno all'inizio poi dopo non si è confermato Udinese Becao Masina Toloi Lukman Atalanta alla fine Toloi aveva dato un indizio importante già la prima Lukaku Dumfries Lukaku Dumfries all'Inter e Sise nel Lecce e poi c'erano stati molti diciamo exploit che sono rimasti tali c'è tipo il primo gol di Cristante che è rimasto l'ultimo il gol di Lobotka i gol di Lasagna Henry di Maria quindi ogni anno nelle prime giornate comunque sempre attenzione che ci sono ci sono dei gol inaspettati ecco quindi chiaramente vedremo stavo leggendo in chat scusami squalificato Turati per Bestemmia ci dicono i ragazzi che stanno che stanno lavorando giudice sportivo prima squalifica Turati per Bestemmia adesso capiamo un attimo se secondo del del Frosinone Cerofolini esatto che nessuno avrà ma nessuno forse anche Turati nessuno avrà esatto in pochi avranno anche Turati adesso chiesto quante giornate giusto per capire sì sì una giornata ok una giornata Turati per squalifica Cerofolini è il secondo sì sì come state scrivendo giustamente in chat come abbiamo detto calma con Cagliode Ruggeri ragazzi allora Ruggeri il mio sogno premonitore pazzesco calma cioè nel senso è un bel giocatore vediamo se sarà titolare l'Atalanta ha anche le coppe ecco e Cagliode uguale la Fiorentina con le coppe ha giocato benissimo aveva fatto bene già nel precampionato però comunque c'è Dodò c'è un'alternanza dicevamo Dodò il più titolare di tutti a questo punto alternerà tanto anche lì a destra però direi calma comunque cioè per me il titolare resta Dodò non so tu come la vedi sì vediamo vediamo anche in Europa cioè in Europa a meno di sorpresa tornerà Dodò cioè siccome comunque c'è stupisce una notizia nel senso che appunto Dodò in teoria era quello più titolare degli altri cioè con meno coppie però a questo punto è una situazione che può essere simile a quella di Belaghi Parisi e delle altre varie situazioni che ci sono esatto che ci sono nella Fiorentina cioè situazione che è diversa sempre da quella della Juve cioè nella Juve comunque in questo momento cambia a sinistra e UEA a destra ma ha solo il campionato come dicevamo prima per quanto riguarda Costi ci avevo visto una domanda prima quindi Costi c'è la fine che si fa ne abbiamo parlato anche con Romeo cioè diventa molto molto più economico chiaramente per l'atta non siamo allo svincolo per me chiaramente aspettiamo anche le prossime giornate le evoluzioni eventuali dal mercato vedevo una domanda su Candreva no fuoco di paglia direi proprio no per me non è che fuoco di paglia ovviamente non fa due gol a partita questo è ovvio però io lo vedevo comunque bene già da prima cioè comunque per me Candreva era un centrocampista che 7-8 gol poteva tranquillamente farli adesso ne ha già fatti due e se ne fa altri 7-8 se ne fa mai 10 sarebbero tantissimi però era comunque aveva tutte le cose al posto giusto diciamo perché cioè comunque Candreva gioca prende da trequartista seconda punta molto offensivo anche piazzati quindi era comunque un giocatore già diciamo già forte già buono adesso ancora di più quindi bisogna capire a quanto andrà nelle varie aste e anche per gli scambi che si propongono un po' lo stesso anche per De Ketelare perché poi dipende secondo me com'è la percezione nelle varie aste rimane molto ballerino comunque come prezzo cioè non in tutte schizza tantissimo in altre rimane comunque ancora tra virgolette acquistabile e Olivera a titolare secondo me rimane il ballottaggio con Mario Rui sì anche per me Aguli sono diversi uno è più fisico uno è più piede tra virgolette Mario Rui è un regista arretrato Olivera più gamba più fisico secondo me dipenderà molto di partita in partita però tanti ormai di questi terzini c'è Carlos Augusto è entrato bene Di Marco ha giocato bene cioè io vedo veramente tante 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 alternanze soprattutto delle squadre che fanno le coppe nel ruolo di terzino prendo sulle mani al posto di Zaleska il mantra eh dipende a cosa ti serve sulle mani le ha di massima titolare un pochino più titolare di di Zaleska a livello di ballottaggi prima vedevo anche una interessante chiesa o Lucman uno scambio tu chi prenderesti? io prenderei chiesa Guli eh in questo momento ha sicuramente anche più cioè diciamo più hype quindi se vai a prendere chiesa poi puoi andare a fare uno scambio anche anche migliore nelle prossime giornate cioè quindi anche questo poi essendo all'inizio inizio va considerato ma prezzo per Pavard beh stuettiamo intanto che ci sia poi l'ufficialità visto come sono andate tutte le varie ultime eh trattative però secondo me io lo vedo come difensore un po' alla Bastoni al Fanta sì ci sta cioè che rischia di essere forse più forte nella realtà che non che non al Fanta quindi sì comunque penso che si andrà intorno alla alla ventina sì anche per me cioè se poi diventa anche qualcosa in meno Guli sincero sì sì Lucman tutta la vita tanto fa più gole ai rigori però secondo me cioè se fai uno scambio adesso non fai solo uno scambio cioè già se fai uno scambio adesso che siamo al 20 agosto che vuol dire che probabilmente poi è una lega in cui si scambia tanto in cui ci sono tante finestre che poi ovviamente hai già fatto l'asta e quindi sei partiti presto ci sarà anche poi una finestra a settembre quindi secondo me in questo momento Chiesa con tutto l'hype che ha dopo il gol alla prima se c'è già fa altri due o tre gol nelle prossime hai una miniera d'oro per fare magari un altro scambio il mio discorso guli è soprattutto perché come diciamo sempre anche per rispondere a Tomiaso che dice in hype per un gol non siamo in hype per un gol ragazzi siamo in hype cioè io preferisco i giocatori della Juve a quelli dell'Atalanta per un semplice discorso che l'Atalanta li ruota tanti è un'abbondanza pazzesca e come diciamo sempre uno isolato qua e là ci sta io per come sono fatto costruisco il Fanta con abbastanza certezza quindi giocatori che non dico che sulla carta ne giocano 38 su 38 ma quasi a me ogni volta avere il dubbio Lucman gioca Francesca Macca ma c'è Kuhn Miners ma alza Pasalic ma hai visto c'è già l'ultima l'Atalanta Pasalic non ce l'aspettavamo ha giocato è così l'Atalanta e c'è poco da stupirci mette Zapata poi se Zapata resta poi Muriel poi vediamo cosa succede adesso col mercato per me è semplicemente quello Toloi è tornato sta bene semplicemente per una questione di condizione non ha giocato no ma comunque l'Ip c'è per un gol ragazzi cioè è inutile nasconderlo cioè Giroud mio di bala suo se non avesse segnato Giroud non l'avrebbero neanche chiesto non l'avrebbero neanche proposto lo scambio Giroud segna Bel Milan fa anche assist quindi super Giroud e subito anche io prendo di bala ok però chiesa chiesa a Lukman è abbastanza la pari non so come la vedi tu Guli cioè non è una roba io non faccio un ragionamento cioè non faccio un ragionamento da adesso da adesso ma in generale per gli scambi scambi ha sbagliato fare il ragionamento da adesso a a fine stagione chi fa più gol tra Lukman e chi è scambi non è quella la domanda cioè scambi la domanda è tra un mese ho di nuovo gli scambi magari adesso tra i due chiesa è sicuramente più lanciato poi comunque Lukman avrà anche la Coppa d'Africa quindi magari anche a prescindere però non sto a fare tutta una valutazione sui tuoi giocatori cosa succederà a gennaio eccetera eccetera cioè io guardo anche più l'immediato se ho uno scambio adesso vuol dire che poi ovviamente da Lega a Lega può essere diverso però se ho uno scambio adesso vuol dire che probabilmente tra un mese avrò di nuovo gli scambi e se chiesa mi fa altri due o tre gol visto che è già lanciato mi vado a prendere altri attaccanti ancora più importanti Sommer 50 su 500 cosa ne pensate? forse leggermente troppo anche per me un po' tantino poi dipende anche se c'è modificatore inviolata per i portieri sono fattori importanti da da sapere io comunque lo vedo leggermente sotto c'è ad esempio Magnan Schesny però chiaramente se Magnan in quella Lega non so in particolare va a 70 allora Sommer 50 può anche andare bene però non penso che vada a 70 quindi secondo me è leggermente altino poi chiaramente forse in Trafabri si Casale ragazzi di Altena lo facciamo anche l'anno scorso non vi preoccupate se avete Casale perché comunque gioca Casale si si l'abbiamo già vista si si ci sono state un po' di sorprese un po' di cose magari anche imprevedibili però anche lo stesso Augello ad esempio che non gioca perché ha messo 3-5-2 non è solito 4-4-2 ci sono state un po' di situazioni che magari vanno monitorate se già poi la prossima ecco se ad esempio Dodò dovesse star fuori sia in Europa che in campionato nelle prossime due della Fiorentina allora a quel punto è Caso Dodò chiaro chiaro però sì aspettiamo magari un attimo prima dei giudizi definitivi ecco Colombo come lo vedete no non sarebbe male sicuramente lo vedrei lo vedrei bene forse sì però il momento si prende dal Milan se si entra a Fabri glielo chiediamo perché se non è il Milan piuttosto che andrà a prendere a casa se lo tiene Colombo cioè perché prendere tanto per prendere se poi non cioè lo vogliono in prestito eccetera però a maggior ragione cioè non è detto che lo trovi in prestito come dicono loro se non lo trovi secondo me alla fine si tengono lui sì poi c'era anche Muriel la voce di Muriel per il Monza quindi Petagna c'è un po' questo giro Colombo Petagna da capire alla fine come si risolverà lo stesso Miranciuk che il Torino alla fine arriverrebbe sempre ma ancora non ha fatto il fondo decisivo io non penso proprio che possa rimanere all'Atalanta sarebbe uno spreco incredibile tenere Miranciuk fuori dal progetto e non preso in considerazione quindi secondo me qualcosa all'ultimo potrebbe sì anche potrebbe è una di quelle scommesse per chi fa l'asta in questi dieci giorni che rimangono alla fine del mercato cioè uno come Miranciuk andrebbe via pochissimo però eccoci qua con Fabri ciao ragazzi ciao Fabri che aveva cambiato il nome che non si è Romeo e senza Giulietta Miranciuk lo vedi da qualche parte? no per il momento lo vedo su Instagram nel senso che non so grandi novità di movimenti è classico secondo me che agli ultimi due tre giorni bisognerà aspettare ci vorrà un po' di pazienza e potrebbero esserci sorprese faccio un esempio il Monza voleva prendere Malinowski poi non ci è riuscito perché ha scelto di andare al giro quel tipo di movimento lì ora non so se possa essere tornando proprio la sensazione perché al momento di notizie non ce n'è ancora però è il classico che può rientrare in quel tipo di giro diciamo è subito questa domanda Gabri Vega Napoli eh Gabri Vega ragazzi capisco i tifosi del Napoli purtroppo è una situazione delicata che mentre stiamo parlando qui si sta discutendo ancora tra Napoli Selta Vigo gli agenti quindi sono tutti in contatto oggi per cercare di avere un dentro fuori diciamo quello che è successo è che venerdì il Napoli era un accordo per Gabri Vega Napoli che ha scambiato i documenti una giornata di sabato col Selta Vigo preparando l'arrivo del giocatore domenica e le visite mediche lunedì mattina quindi questo era il programma già fatto con tanto di biglietti aereo e tutto il resto per il giocatore per la sua famiglia per i suoi agenti poi succede che durante il weekend quando si sono scambiati i documenti sono state cambiate alcune parti diciamo dell'accordo nei contatti tra i due club ci sono stati dei problemi sui termini di pagamento insomma ora non voglio entrare troppo nei dettagli perché come ho scritto oggi su Twitter si rischia di fare insomma un danno sia al Napoli che al Selta che al ragazzo se il resto si dicono troppe cose quindi diciamo che ci sono stati dei problemi poi entreremo nello specifico quando sarà finita in ogni senso questa storia e quindi adesso per questi problemi bisogna cercare di risolverli ci stanno provando Napoli e Selta oggi sono in contatto per riuscire a trovare una strada una soluzione vediamo di sicuro il Napoli non vuol tirare questa storia troppo a lungo quindi adesso bisognerà cercare di capire se l'operazione salterà o se si riuscirà a risolvere tutto e a portare Gabriel Vega a Napoli questa settimana il giocatore sta aspettando di poter partire di avere un via libera credeva di essere già a Napoli domenica pomeriggio e poi di fare le visite mediche lunedì così non è stato quindi aspettiamo è certamente una giornata importante in cui continuare a parlarsi e capire se può arrivare un via libera o se salterà l'operazione Gabriel Vega invece Zinischi diciamo ormai definitivo il no alla rabbia giusto? sì al momento l'operazione non si fa è un'operazione che si è bloccata da quello che mi risulta non è soltanto una questione di giocatore ma anche il Napoli ha temporeggiato tanto prima di poter rispondere alla lì cioè io continuo a sapere poi magari so che vado controcorrente su questa storia ma so che Zinischi aveva dato l'ok alla lì e che è stato il Napoli ad aspettare tanto prima di poter dire ok facciamo partire il giocatore quindi la lì comprensibilmente dopo due settimane ha scelto di andare su altri obiettivi ieri ha fatto un'offerta per Rodrigo De Paul da 32 milioni di euro rifiutata adesso sta cercando altri giocatori in quella posizione quindi per il momento per quanto riguarda Zinischi la situazione è in totale stand by e credo che il Napoli possa provare di nuovo a parlare di rinnovo con lui sì anche poi chiaramente se dovesse arrivare Veiga con Zinischi che rimane ci sarebbe anche poi abbondanza a quel punto a centrocampo però per il Fanta ne parleremo magari venerdì se ci saranno novità invece c'è questo trio Berardi Lukaku Kostic ce l'ha imparato un po' anche con un po' con Romeo però proprio al volo mi sembra che in questo momento non ci siano grosse novità comunque su Berardi Lukaku per la Juve no al momento no e io credo che insomma i gol di Vlaovic non aiutino l'operazione Lukaku nel senso che se la Juve due settimane fa si sedeva chiedendo 40 milioni più Lukaku per Vlaovic non credo che oggi abbia tutta questa voglia di scendere visto comunque come sta rispondendo Vlaovic gliene aveva dato atto sappiamo tutti che non è stato un anno facile fisicamente per Vlaovic e anche probabilmente psicologicamente visto quello che è successo insomma in questi mesi rispondere in questo modo segnando dando comunque la sensazione di essere il vero Vlaovic che conosciamo magari non ancora quello di Firenze sicuramente non aiuta in senso economico dell'operazione cioè la Juve non dà Vlaovic per Lukaku alla pari che è l'unico modo probabilmente in cui il Chelsea avrebbe pensato di poter fare questa operazione quindi vediamo di certo Lukaku rimane un problema per il Chelsea perché oggi Lukaku si allena con l'Under 21 e non ha nessun contatto con nessuna squadra al momento per andare via quindi il Chelsea sta continuando a cercare soluzioni in Europa in Arabia ovunque poi sarà Lukaku a fare la sua scelta quindi vediamo però al momento certamente i gol di Vlaovic non aiutano Lukaku Zapata Roma Fabri 5 milioni più 5 di bonus da quello che so questa è l'ultima offerta che ha fatto la Roma in termini di tempo non l'ultima definitiva ma l'offerta più recente che ha fatto la Roma dei 5 milioni più 5 di bonus nelle ultime 24 ore sta aspettando la risposta dell'Atalanta tra per Cassi Gasperini insomma l'Atalanta ci sta un po' pensando perché l'infortunio di Elbilal Touré ha chiaramente cambiato un po' le esigenze dell'Atalanta però la Roma sta insistendo la Roma rimane fiduciosa già ieri era fiduciosa la Roma rimane convinta che alla fine quest'operazione si possa fare quindi si sta andando avanti 5 più 5 sarebbe il costo totale da 10 milioni di euro di pacchetto d'Ugan Zapata invece vediamo molto nei commenti Pavar Inter cosa si aspetta a questo punto? io mantengo la mia posizione in Germania non è andata per saltata poi non ha scritto più niente è sparito no no nel senso che non hanno più aggiornato ma io allora per quanto riguarda Pavard ragazzi so che tanti tifosi dell'Inter aspettano il via libera definitivo manca soltanto una cosa che il Bayern chiami l'Inter e dica ok potete organizzare le visite mediche mandarci i documenti praticamente questo perché manca questo perché il Bayern come ha detto dal giorno 1 di questa operazione deve trovare un sostituto cioè non lascia partire Pavard come ha detto al City allo United se non ha un sostituto quindi stanno parlando con diversi giocatori da Crosterman a Gertruida ci sono contatti in corso una volta che il Bayern avrà la sensazione di poter chiudere uno di questi giocatori che può essere già oggi vediamo in serata che succede oppure domani arriverà il via libera e Pavard potrà fare le visite mediche con l'Inter sembra una questione formale a questo punto perché è arrivato l'ok da parte del Bayern alla cessione del giocatore cioè il Bayern ha trovato un accordo con l'Inter l'abbiamo detto ieri 30 milioni più 2 di bonus quindi i tre club sono pronti e se non vuoi vendere il giocatore non raggiungi un accordo quindi la sensazione è che sia semplicemente una questione ancora una volta di buoni rapporti per consentire al Bayern di trovare un sostituto prima di far volare il giocatore a Milano fondamentalmente e Correa che non è neanche entrato Fabri? ma su Correa è vero che c'è l'interesse del Torino da quello che ho capito ieri si è parlato di Betis ma da quello che mi risulta non è proprio la prima scelta del Betis in questo momento è uno dei nomi che hanno considerato ma non la primissima scelta vediamo se dovesse arrivare qualcosa sappiamo come abbiamo detto già la settimana scorsa che l'Inter sta pensando a Sanchez che la sensazione rimane quella che Sanchez stia aspettando l'Inter anche perché quando è stato chiamato dall'Inghilterra e anche in Arabia a inizio luglio Sanchez ha sempre dato priorità all'Europa e all'Inter in questo caso quindi vediamo secondo me è una cosa da tenere d'occhio fino alla fine non è ancora imminente non è ancora vicina bisogna capire la volontà del giocatore in questo caso con il Toro ed eventualmente col Betis però Sanchez rimane il nome per l'Inter in questo momento è bello anche Sensi perché poi mi collego a questo punto anche a Samarzic che ho visto 3-4 domande nei commenti quindi Sensi a questo punto penso penso resti no Fabri però sì però bisogna anche rinnovare il contratto cioè questa è una cosa comunque importante nel discorso Sensi Sensi è un anno solo e comprensibilmente l'Inter dice ok se ci riproviamo insieme troviamo un accordo sul contratto quindi adesso bisognerà parlare di quello però oggi la sensazione sì che Sensi che Sensi faccia parte della squadra e su Sensi sì al sesto sì sesto poi da vedere perché Sensi magari può fare anche il vice c'è la no glu nel caso in cui dovesse mancare quindi sesto tra virgolette poi per quanto riguarda Samarzic vediamo fino in fondo io non sono per niente sicuro che resti a Udine Samarzic secondo me fino all'ultimo ci sarà chi proverà ad approfittare di quello che è successo con l'Inter e inserirsi in un'operazione e provare a chiuderla quindi vediamo che succede con la Lazio ma in questo momento la Lazio sta ancora parlando con Marsiglia per Guendusì e poi vediamo se qualche altra squadra possa provare a inserirsi è Milan non avevamo parlato c'è entra avanti Teo vice Teo alla fine Milan dopo che ha fatto il grosso sono rimasti un po' questi due questi due slot nelle ultime 3-4 settimane sono sempre qui senza grande ansia nel senso il Milan anche dei giovani bravi quindi in questo momento per quanto riguarda il vice Teo non c'è tutta quest'ansia anche sull'attaccante il Milan aspetta un'opportunità sono stati proposti e nominati tantissimi attaccanti in questi giorni ma il Milan non ha ancora affondato su nessuno vediamo ce ne sono diversi in lista abbiamo nominato Jovic non abbiamo detti altri incluso Broglie del Chelsea ma al momento il Chelsea ancora non ha preso un altro attaccante quindi ancora non si sblocca vediamo questa Roma direi comunque che il Milan tranquillo cioè Giroud ieri sera sembrava avesse 27 anni quindi direi che ogni anno comunque c'è Colombo esatto esattamente che probabilmente non è peggio dei tanti altri che si stanno nominando e questo Lukaku-Roma possibilità che chiedono beh chiaramente se poi arriva Zapata ma adesso la Roma sta trattando Zapata sì oggi la Roma sta trattando Zapata poi quello che succede nei prossimi giorni vediamo però oggi la Roma sta trattando con l'Atalanta e con gli agenti di Zapata quindi questa è la realtà no poi comunque Belotti ha anche fatto due gol quindi io penso che chiaramente se adesso dovesse arrivare Zapata hai due attaccanti due prime punte anche con le caratteristiche abbastanza simili e puoi andare a costruire il 3-4-2-1 più o meno di Murigno con le due punte che si alterneranno a seconda di campionato ed Europa lozano fabri che chiedono in tanti eh bel caso lozano è da maggio che deve andare via ogni giorno e poi alla fine non si chiude ancora niente quindi per ora rimane una situazione in cui ci sono dei contatti sì qualcosa in MLS anche altro però ancora non è una cosa in via di definizione mi piace molto la domanda che vedo di Antkas che dice di Carlson come ha fatto a finire a Bologna ti posso dire che c'erano squadre adesso aspettiamo non so se sia ufficiale già o ancora no ma dovrebbe fare le visite proprio in queste ore esatto aspettiamo l'ufficialità poi possiamo nominarle squadre però c'erano squadre comunque di livello in Inghilterra soprattutto che hanno pensato a lui poi ci sono stati incastri diversi però per me parliamo di un giocatore che non c'entra niente con diciamo metà classifica con tutto rispetto per Bologna ovviamente grande club grande piazza ma questo è un giocatore secondo me che potrebbe giocare anche coppe importanti ecco mettiamola così per cui complimenti al Bologna perché fa un grandissimo acquisto e chi lo prende al Fanta anche secondo me quindi aspettiamo il ruolo anche se io temo attaccante sì esatto quest'anno c'è questa moda di mettere tutti gli attaccanti se giocano no ma in realtà neanche tanto cioè poi Zacca c'è alcuni alcuni no dipende un po' da come gira c'è stesso Bologna Orsolino io sono centrocampisti quindi alla fine vedremo vedremo che ne parleremo aspettiamo anche che finisca le visite che ci sia l'ufficialità comunque sì dovrebbe essere dovrebbe essere attaccante lui per caratteristiche molto più cioè più offensivo vede più la porta ha fatto 35 l'anno scorso Ale poi ho visto che era ci ha avuto diversi infortuni l'anno scorso anche con Cosina posso dire che per me comunque Carson non è un attaccante cioè penso che per me non c'entri nulla con il ruolo di attaccante al fantacalcio poi è il mio punto di vista per me non c'entra proprio niente cioè se è attaccante Carson allora Teo Hernandez fa centrocampista però Teo Hernandez gioca più avanti che dietro cioè non capisco il senso per me Carson è proprio centrocampista dall'A alla Z però lì dipende un po' come lo vedi devo dire che su Chiesa c'è nel senso Chiesa alla fine ad esempio è stato giusto cioè poi il campo a volte parla e conferma o smentisce quelle che poi sono magari le ipotesi estive Chiesa alla fine a Lega è stato attaccante seconda punta quindi su Chiesa attaccante sono punti di vista ve lo fatto basta con queste polemiche non è una polemica dico quello che penso se vuoi sentire la messa vai in Chiesa e senti il prete che parla io dico quello che penso posso dire che Carson per me fa il centrocampista non attaccante se la pensi diversamente non è che muore qualcuno se Carson fa mettilo pure difensore a me non mi prega nulla cioè ognuno dice quello che pensa secondo me c'è sempre poi il campo che parla quindi l'anno scorso Quara Scheglia per me era una foglia listarlo centrocampista si è fatto questo anno da centrocampista ha fatto una volanga di gole assist ma non c'entrava niente col centrocampo cioè Quara Scheglia era un giocatore all'Aleao giocava molto vicino non è una polemica ognuno vede il calcio a suo modo e quest'anno è stato messo attaccante Quara quindi si vede poi quello che dirà al campo contro tutti e tutti come Conte ma Conte quindi alla fine cosa fa? cioè poverino nazionale è andato a spalletti questo è un bell'argomento perché per me che Antonio Conte sia fermo significa che ha finito il calcio però vale tutto almeno ma quindi rimane come figura super ingombrante appena appena c'è qualcosa che non va in qualche big subito l'ombra di Conte vediamo adesso sicuramente per ora non c'è nulla poi vedremo più avanti però per adesso è tutto molto tranquillo una rabbia tipo non c'hanno mai lui magari andrebbe non mi sembra non credo proprio esatto eh Muriel Monza Antonio fai il bravo eh Antonio fai il bravo leggo dei commenti per cortesia vedo ragazzi se dovete dire stronzate mi fa nervosire quando leggo certe cose vediamo Conte alla Roma ma al momento direi che la Roma è più che contenta con Murigno quindi per il momento non vedo nessun tipo di cambiamento ho letto tante domande su cos'era io è un conge ho visto c'è questo giro c'è questo giro ma quella ragazzi è una cosa su cui secondo me si arriverà veramente all'ultima settimana sui vari petali Mussolini Muriel conge questo è molto si arriva in fondo sì sì cioè prima bisogna chiarire i vari Zapata i vari Lukaku i vari Berardi cioè bisogna ancora fare una fascia prima che si vada poi a capire quella situazione lì su Holm che è anche richiestissimo rimane questo discorso legato alla Juve cioè la Juve ci sta continuando a lavorare nonostante fosse veramente vicino l'Atalanta c'è l'Atalanta dopo aver perso Singo l'Atalanta ha fatto anche altre scelte il Monaco ha offerto di più l'Atalanta ha scelto di non di non rilanciare Holm l'Atalanta ci ha provato è stata veramente molto vicina ma adesso l'Atalanta è tornata in corsa quindi Holm è una situazione sicuramente da seguire invece la posizione l'Atalanta vedo sempre dando su Baccar che non abbiamo parlato in questa live l'abbiamo parlato già le scorse si è confermato diciamo il caso nel weekend io penso che poi come alla fine finirà il mercato esterno l'Atalanta dipenderà un po' cioè si capirà poi la situazione Baccar cioè tu lo vedi male comunque Baccar io l'ho detto l'altro giorno di questi sentori sì lo vedo molto male poi per carità c'è sempre tempo nel calcio di cambiare le cose quindi magari di chiarirsi e di modificare la situazione diciamo che non è stato un grande inizio tutto qui poi gioca Ruggeri fa pure assist Bologna nuova punta poi ultimissime ragazzi poi salutiamo vediamo sulla punta del Bologna sì ma la farà secondo me prenderà la punta del Bologna credo proprio di sì invece in congeno lo prende più il Bologna a questo punto se resta Orsolini se resta Orsolini non credo proprio esatto ne hanno tre praticamente per due posti bella Pereira Fabri anche io me lo chiedero non è perché in B Pereira Tuku non lo vuole nessuno davvero in A sono d'accordo sono d'accordo vediamo fino in fondo vediamo fino in fondo sul Tuku per me anche per me è pura follia giocatore che proprio in Serie A ci potrebbe anche probabilmente al Torino non lo so una pista così al Monza anche 3-4-2-1 per me è perfetto può fare i due può fare l'Ara può fare chi vuole sono d'accordissimo vediamo fino all'ultimo interessante questa qua visto Pimpio 9 Zanoli resta al Napoli ha avuto due miliardi di voci Zanoli dal Genoa un po' tutta Europa praticamente però alla fine c'è lo Sport perché era interessato però lo Sporting adesso sta andando su Fresneda quindi per il momento non è ancora una cosa vicina quindi potrebbe restare a Napoli vediamo speriamo resti in Italia per esempio Zanoli è proprio bravo bravo però chiaramente a Napoli con Di Lorenzo giocare è dura e poi ultimissimo allora facciamo Ken che aveva parlato anche anche ora che mi sembra a questo punto sul mercato sì può esserlo nel senso che chiaramente ci sono state delle situazioni non nuove in cui si è pensato di trovare una soluzione per Ken però è anche vero che la Juve non lo regala quindi ci vorrà un'offerta giusta adesso al di là dei rumors Inghilterra Italia e tutto il resto la Juve non lo regala quindi deve arrivare una proposta importante sono d'accordo su Zanoli molto bravo Zanoli è un fenomeno invece Serie A Fabri ha visto qualcosa che ti ha incuriosito nella prima giornata qualche sorpresa qualcosa che non ti aspettavi Raffia del Lecce mi è piaciuto tanto gran bel giocatore è stato quello che mi ha colpito di più tra ovviamente a parte i grandi nomi quindi per i voti sei ancora tranquillo direi lui per ora ci concentriamo sui ruoli esattamente addirittura i due centri di caldi fenomenali per Darius beh qualcosina è successo però siamo ancora veramente molto molto all'inizio aspettiamo poi adesso anche il mercato vedo ancora tantissimi con Zapata Muriel quindi c'è ancora molto che può succedere a livello soprattutto di quei terzi quarti slot per l'asta quindi vediamo in questi dieci giorni un pochino cosa succederà e appuntamento a questo punto a venerdì ecco il 6 e mezzo rendo sfollia beh il 7 ci stava tutto che giocatore ottima partita il 7 ci stava tranquillamente venerdì venerdì 16-18 ragazzi appuntamento ormai classico delle 16 ci sarà nell'anticipo del venerdì e si inizia a fare sempre di più sul serio anche al Fanta e poi sul mercato perché ormai manca manca veramente sempre meno Fabio non ti aspetti cose grosse però in questo finale onestamente in Italia non credo non credo mi sembra tutto abbastanza indirizzato eh Pavara aspettiamo sì più tardi vediamo e ragazzi anche costi tanti ancora i nomi che devono piazzarsi che devono così delinearsi però vedremo se venerdì ci saranno novità anche con Fabio ci sarà di nuovo anche Marco quindi ragazzi aspettiamo venerdì dalle 16 alle 18 di nuovo per il pregiornata per la seconda giornata ciao a tutti ciao Fabri ciao Ale grazie a tutti ciao ragazzi ciao a tutti 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 ciao a tutti